Puntata di Polifemo, l'occhio di abate, viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre, di venerdì 8 gennaio ore 21 e replica domenica 10 gennaio ore 14 e 30. Prima parte di Polifemo riservata alle problematiche di teleperformance, si avvicina il rinnovo delle RSU, ma vogliamo raccontarvi un fatto ancora più grave che ha davvero del misterioso, a mio avviso c'è molto di più del mistero, ma comunque è un fatto molto ma molto grave, a mio avviso lessivo della dignità dei lavoratori in genere. Mi riferisco al licenziamento di Domenico Portulano, che è qui alla mia destra, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB per quel che riguarda il settore della telecomunicazione. nel corso della puntata ci racconterà quello che è accaduto, il misfatto. E alla mia sinistra Francesco Marchese, RSU dell'USB in teleperformance, con il quale parleremo dell'episodio accaduto, parleremo anche proprio del modus operandi dell'USB, del non piegarsi dinanzi a certe situazioni particolari e parleremo ovviamente delle prossime elezioni per il rinnovo delle RSU. Seconda parte di Polifemo invece è dedicata alla premiazione della cinquantesima rassegna internazionale di pittura Città di Mottola, un evento davvero unico nel suo genere, l'unica mostra di questo livello nel Mezzogiorno d'Italia, nell'Italia meridionale appunto. Quest'anno sono state fatte le cose in grande, grazie ovviamente al suo infaticabile creatore ed organizzatore Giovanni Rogante. Ascolteremo il suo pensiero, ascolteremo il pensiero degli artisti, delle autorità. Insomma, questa rassegna è davvero un momento di orgoglio per Mottola, per l'intera provincia ionica. Un'occasione per far crescere culturalmente il territorio ionico. E poi a seguire alcune segnalazioni dei cittadini attraverso la rubrica appunto lo sportello del cittadino e l'angolo musicale. Insomma, un Polifemo, come è ormai abitudine, ricchissimo e per tutti i gusti, per tutte le esigenze. Mettetevi comodi in poltrona, azionate il telecomando, canale 93 e viva la libertà di informazione. Buona visione!